Eccoci, siamo un po' in ritardo per il nostro trailer semestrale ma ancora in tempo per l'estate 2022 nei nostri contenuti video che sono storici artistici e culturali con qualche accenno alla scienza e alla fantascienza sono comparsi di recente anche i supereroi non potevano di certo mancare per adesso soltanto Robin Hood e Zorro ma presto ce ne saranno degli altri come ormai saprete il nostro team lavora come una piccola produzione cinematografica abbiamo i sopralluoghi delle località scelte un copione scritto allestimenti costumi di scena e qualche trucco quando serve per ultimo naturalmente i programmi per gli audio e il montaggio del filmato i nostri miglioramenti sono costanti in tutti i settori che ci riguardano e presto grazie a tutti voi avremo raggiunto il traguardo dei 100 video impensabile fino a qualche anno fa per cui a nome del canale e del partner americano youtube vi ringraziamo ancora per il supporto seguiteci il viaggio continua da T motion discovery il piacere dell'avventura a 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